E' il momento chiave della stagione, lo ha detto senza mezzi termini il tecnico del Pescara Beppe Pilon alla vigilia della trasferta di Cittadella. Emergenza più o meno assoluta perché mancheranno Brugman, Campagnaro, Balzano, mancherà anche Canutè, lo stesso Elisalde e poi soprattutto lo squalificato Marras che sarà molto probabilmente rimpiazzato da Sottile, che è stato provato sulla tre quarti in diverse circostanze, in questa settimana di allenamenti in realtà è stato alternato anche Melegoni in qualche caso anche del sole, però secondo noi giocherà appunto Riccardo Sottile. Sarà il debutto da titolare dopo l'esordio dei minuti finali del classe 99 arrivato in prestito dalla Fiorentina nella trasferta di Crotone. C'è anche un rientro importante, alludiamo naturalmente a Cristiano del Grosso che dovrebbe, usiamo il condizionale quanto mai di rigore, tornare ad occupare la fascia sinistra dopo cinque partite vissute ai margini per infortunio. Sta crescendo Pinto, ne ha parlato lo stesso Pilon che tra poco andremo ad ascoltare. Cittadella privo di Ghiringhelli, Rizzo e degli squalificati Frare e Settembrini giocheranno Drudi e Proia, 4-3-1-2 il sistema di gioco, Schenetti sulla tre quarti alle spalle di Moncini e Finotto. Andiamo dunque ad ascoltare i passi più significativi della conferenza stampa di Bepi Pilon. Contro il Brescia, recupero altissimo del pallone, ritmo, intensità. Tra l'altro ha meritato la grande, la vittoria perché ha sbloccato il punteggio, vorrebbe potuto anche raddoppiare nel primo tempo, ha rischiato qualcosa negli ultimi 15-20 minuti, ma soprattutto per un forcing, diciamo, volenteroso dei Lombardi solo un errore di Paleari che poi ha rimediato su Torregrosso. Insomma, una grande squadra probabilmente è la squadra che gioca meglio, è d'accordo? È una delle squadre che gioca meglio. Diciamo che sono anche anni che giocano con quel sistema di gioco me lo ricordo ancora quando ero in C, quando io ero a Padua giocavo nello stesso identico modo con l'ossatura della squadra quella, perciò giocano a memoria. E poi è una squadra che ormai si è consolidata in questo campionato, che è una, secondo me, delle squadre più importanti da questo punto di vista. Sappiamo cosa ci aspetta. Non dobbiamo perdere palle in uscita perché loro sono assatanati nel recupero palla e nel ripartire in tanti uomini. Perciò dovremmo stare molto attenti nelle uscite di gioco e al loro ritmo, alla loro aggressività, che è la loro arma migliore. Pescara ha visto nei primi 15 minuti il secondo tempo quello spezza, a me è piaciuto tantissimo. A proposito del recupero alto del pallone, potrebbe essere questo il piano partita? Sì, può essere uno dei piani, ma soprattutto non dobbiamo mollare una palla, nel senso che quelli sono proprio bravi in questo. Perciò noi, sul piano del ritmo, dell'aggressività, della pressione, dobbiamo viaggiare a pari livelli con loro, se no diventa una partita difficile. Un altro giocatore chiave della squadra è Venturato Eschenetti, che si muove benissimo tra le linee, poi insomma sa calciare nell'uno contro uno, può essere anche devastante. Io credo che se Bruno ripete la partita che ha fatto l'ultima, sono tranquillo da quel punto di vista lì, nel senso che sappiamo come ne va a parare. È chiaro che è un giocatore che poi non ti dà un grande riferimento, perché lui si sposta continuamente. È chiaro che fuori casa devi tirare fuori dei punti, non c'è niente da fare se vuoi ambire ai play off come adesso stiamo puntando. Poi se vuoi ambire a qualcosa di più importante, è chiaro che devi fare qualche vittoria fuori casa, non c'è niente da fare. Adesso siamo arrivati nel momento chiave del campionato, questo sì, ma non solo per noi, per tutte le squadre, sia che sono giù, sia con il sud. Adesso è il momento chiave.